Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come incorporare il vostro player Twitch, quindi il player del vostro canale Twitch, della vostra trasmissione, in un blog. Come potete vedere qui. In questo modo, diciamo, se avete un blog di notizie e incorporate il vostro Twitch, quando gli utenti andranno sul vostro sito per leggere le notizie, se siete in live o state trasmettendo magari una replica, vedranno appunto la vostra trasmissione e quindi vi daranno visualizzazione e spettatori attivi. Come fare? La prima cosa è andare nel vostro canale Twitch, quindi da questa schermata andate su chat e verrete indirizzati alla vecchia schermata. Da qui cliccate su condividi e poi su incorpora. Ora qui ci sono due possibilità. O il javascript o l'e-frame. Diciamo che si utilizza principalmente l'e-frame, ma se voi vi affidate al javascript utilizzate questo codice. Per il javascript copiate questo codice e lo incollate sul vostro sito e non ci sono problemi. Per l'e-frame invece, come viene, diciamo, riportato qui, dovete sostituire questa parte. Adesso vi do la dimostrazione. Andando su Aspetto Widget, se il vostro sito ovviamente è in WordPress, e andando su qui, praticamente, scusate, non qui, io utilizzo un altro plugin, ossia Ad Inserter. Come potete vedere, il codice è questo, praticamente, soltanto che alla fine ho sostituito example.com con il sito. Quindi in questo modo qua, diciamo, se avete ad esempio tre siti, il codice è lo stesso, ma alla fine dovete mettere l'indirizzo del sito dove state appunto settando il plugin, il player Twitch. Quindi se avete fatto tutto correttamente, visualizzerete il vostro player Twitch sul vostro sito web, blog, forum, quello che sia. Quindi una ricapitolazione veloce. Andate sul vostro Twitch, che è questa schermata qua. Andate su Chat, Condividi, Incorpora, copiate l'e-frame e lo incollate nel vostro sito. Io utilizzo Ad Inserter, voi non lo so che cosa utilizzate, questo codice può essere copiato anche all'interno di un articolo, ma badate bene di sostituire questa parte finale con il vostro blog o sito web.